su radio dj ed è arrivata in studio la pediatra carla pediatra con la p maiuscola anche su wikipedia abbiamo guardato esce proprio pediatra come se fosse il tuo cognome pediatra e sono diventata un brand mi hanno brandizzato è come tata lucia cioè che diventa tata diventa quasi più il suo nome che il suo il suo lavoro pediatra è il tuo lavoro ma in questo caso ormai fa parte proprio del brand ma mi fa un po paura questa cosa eh lo sapevo perché voi siete tutti in conflitto fra di voi no in realtà io vado d'accordo con tutti i pediatri è un nome che è diventato che è diventato un po un un brand pediatra carla che è uscita con un libro giochiamo con i cibi amici adesso parliamo di alimentazione però secondo me il tentativo nostro perlomeno è offrirti un'ora una mezz'oretta quello che riusciamo a fare di svago perché secondo me tu sei tempestata da domande di genitori invece qua vogliamo farti un po rilassare sono un po troppo apprensivi genitori del del 2000 voglio essere diplomatica non non esserlo un pochino un pochino ecco sono veramente tanto apprensivi è una generazione di genere di genitori in generale ansiosi sì la verità lo descrivo perché è la realtà che vivo tutti i giorni però c'è una spiegazione è qual è i genitori non sono sostenuti dalla società dalle politiche genitoriali è chiaro che si ritrovano soli e c'è una genitorialità fragile non c'è però deve essere deve essere cambiato qualcosa anche nella nostra testa o forse perché anche i nostri genitori non è che fossero particolarmente sostenuti dalla società però gli interessava meno quindi quello è quello che influisce si va tutto più veloce le donne ormai lavorano tutte il nostro mondo è più competitivo c'è anche il mondo digitale da affrontare perché abbiamo una vita reale e abbiamo anche un'identità digitale viviamo quindi due vite parallele abbiamo anche figli senza avere mai tempo di seguirli dobbiamo magari affidarli a qualcuno sentirci in colpa per questo parte parte del tempo che ci manca tu dice speso nella vita digitale anche quella roba lì ti leva ti leva ti leva tempo ovviamente sicuramente si può dare informazioni può essere un'arma a doppio taglio può essere utile e al tempo stesso essere purtroppo un pericolo ok dicevamo però principalmente si parla di si parla di cibo io ti chiedevo questa cosa dei genitori perché quando abbiamo detto che saresti stata qui in studio hanno iniziato ad arrivare domande e secondo me è già un po' il taglio delle domande che arrivano adesso poi tu ci rispondi come giusto come giusto che sia però a me fanno un po' venire lo scoramento per esempio gente che dice agrumi tipo arancia e limone da che età posso darli a mio figlio la mia risposta sarebbe ma che cazzo ma prova cioè se poi non li mangiano non dargli più cioè perché devi chiedere a qualcuno a che età dare uno spicchio d'arancia guarda sei il paziente che desidero come genitore cioè tu però perché devi rompere le scatole da pediatra Carla per queste cose là però non so te lo chiedo da che età visto che lo voglio sapere in realtà dai sei mesi dall'inizio dello svezzamento hai detto in pratica le regole oggi ci dicono che sono pochissimi gli alimenti da non dare ai bambini piccoli in svezzamento basta farlo con sicurezza se li tagli adeguatamente e non li soffochi i bambini puoi dare praticamente quasi qualsiasi cosa che sia sano che faccia parte dell'alimentazione sana provare a dare tutto secondo te le persone vengono vengono più direttamente da da te o da da tue colleghe così o esiste ancora un po il passaparola amicale con gli amici così perché allora io credo credo che sia una cosa su cui abbiamo lavorato bene come genitori con le nostre figlie merito principalmente di mia moglie più che più che mio è l'alimentazione cioè credo che mangino in maniera abbastanza sana però abbiamo sempre provato a darle tutto da fin da piccole cioè credo che le prime lasagne se le siano mangiate adesso non vorrei dire delle minchiate però proprio appena messi appena messi i denti avete fatto benissimo per bene per provare così e però ci siamo basati su amici che avevano figli e voi cosa fate così insomma le informazioni scorrevano un po così le reti tra genitori sono molto utili sai perché? perché manca il villaggio conosci la teoria del villaggio? è molto interessante per fare un bambino serve un villaggio ovvero serve una rete sociale di sostegno dove tutti i genitori sono accompagnati e questo succedeva una volta da parenti, nonni, amici, zii, cugini e quindi si crescono i figli tutti insieme è come se fosse un piccolo clan noi d'altra parte veniamo da un'antropologia di popolazioni tribali oggi questa tribù non esiste più devi creartela se sei fortunato e hai una tribù di amici in questo caso te la sei ricreata allora tuo figlio ha un villaggio se invece sei una famiglia lontano e strabolata magari dalla propria città per motivi lavorativi o magari una famiglia monogenitoriale immaginano le difficoltà dei genitori che sono da soli se non ha una rete sociale di sostegno diventa una genitorialità molto difficile e soprattutto piena di paure e questo è un'altra picconata un po' al mondo dei social network perché in realtà viviamo nell'epoca più connessa di tutti ma tu dici che ci mancano comunque i rapporti è assurdo ma è così e questo ti spiega il motivo per cui ci sono così tanti gruppi di genitori su facebook che poi si sostengono ma a volte litigano tra di loro fanno una cacciara incredibile su argomenti poi banali futili banali sì anche perché poi lì c'è la necessità di avere un'opinione c'è la necessità di innalzare la propria opinione a mantra un po' per tutti cioè deve diventare la regola è che più il genitore è insicuro per quello che ha fatto nell'educazione dei propri figli più ha bisogno in realtà di sostenere le proprie opinioni e il proprio tipo di educazione sì allora io un po' questo sospetto ce l'avevo in partenza adesso mettiamo una canzone e poi iniziamo a parlare proprio di quello che è il topic principale del libro cioè i cibi verso cui i bambini hanno una versione particolare però ti dicevo un po' il sospetto ce l'avevo e me lo stai confermando mi sembra che più che esigenza di pediatri ci sia bisogno di pediatri per i genitori cioè siano i genitori quelli che hanno più bisogno di aiuto diciamo la verità c'è bisogno di più sostegno più sostegno infatti ci dicono sempre dovete essere un po' psicopediatri dovete diventare un po' più amici delle famiglie è come se faceva una volta il mio papà col borsello entrava nelle case e conosceva tutta la famiglia sapeva chi erano i nonni sapeva come erano i genitori una dimensione più amicale più amicale più amicale va bene allora allora c'è un libro che si intitola giochiamo con i libri amici per combattere l'avversione dei bimbi per i cibi nemici a tavola diciamo prima spesso sono le verdure sì come mai non piacciono perché non sono dolci ecco a proposito di frutta ha fatto un altro messaggio come dare il melograno a una bimba di tre anni come mai questa esigenza cioè il melograno è buono fa bene eccetera ma se non lo vuole perché bisogna darglielo per forza è interessante intanto i bambini giocherebbero col melograno tutti i bambini piace togliere i chicchini certo alle mie piace tantissimo per esempio però immagino che poi ci sia anche una tolleranza per il gusto non è che per forza non siamo tutti uguali abbiamo papille gustative diverse soprattutto una percezione sensoriale totalmente diversa come di tutto il resto dei sensi no chiaro 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 e come mai invece le verdure sono tendenzialmente più ostiche cosa che non piace ai bambini delle verdure l'irregolarità delle verdure ah sì se io ti spiegassi che il cibo viene passa attraverso tutti i sensi anche attraverso gli occhi perfino attraverso l'udito lo sai che se una patatina fa croc è più buona anche se una patatina viene bagnata nell'acqua e poi mangiata fa schifo sì ma tu dici che è solo una questione di rumore perché effettivamente se viene bagnata nell'acqua nell'acqua fa schifo fa schifo ma è solo perché io mi inganno non sentendo il rumore o perché obiettivamente fa più schifo dell'altra no 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 tu ti inganni perché in realtà la realtà è nella testa è nella percezione sensoriale ci proverò facendo più attenzione cercando di superare tu durante la canzone ci stavi parlando di neuroscienze applicate alla gastronomia di che cosa si tratta? è una branca delle neuroscienze che ci spiega come attraverso i sensi noi entriamo in relazione con il cibo e quindi non abbiamo soltanto il senso del gusto ma ci serve anche l'udito certo ci serve anche la vista il tatto prova a pensare proprio il tatto di qualcosa che è piuttosto fibroso rispetto a qualcosa che è viscido rispetto a qualcosa che è morbido e suave certo le lumache quasi tutte le persone le odiano perché sono viscide chiaro quindi lo 90% della popolazione non si porta il viscido in bocca qualcosa di simile succede con la percezione delle verdure che sono fibrose hanno paura al bambino perché ha delle sensazioni buccali facciamo la differenza tra un biscotto e una verdura il biscotto è sempre uguale magari compri la stessa marca è identico a 6 mesi ed è identico a 6 anni il bambino sa perfettamente che questo biscotto non avrà all'interno dei semi non deve aspettarsi sorprese sa che può mangiarlo tranquillamente la verdura è sempre diversa tu la compri oggi, la compri domani anche dallo stesso fruttivendolo ha colori diversi non c'è in tutte le stagioni e inoltre la puoi cucinare in modi diversi chiaro, consistenze diverse, tagli diversi in sicurezza ma questo non parte dai 6 mesi attenti perché c'è una motivazione di sopravvivenza che parte intorno ai 2 anni e dura fino ai 5 anni affinché i bambini non si avvelenino difatti la verdura non ci ricorda un po' l'erba piuttosto che una fogliolina di un albero che potrebbe essere velenosa le ciliegie non ci potrebbero ricordare vagamente una bacca che magari è velenosa ma prima ancora di avere il concetto di velenoso tu dici? esatto in maniera istintiva? molto prima proprio per proteggere i bambini che un tempo vivevano all'aperto sicuramente all'interno dei condomini e avevano accesso libero accesso una volta che iniziavano a camminare a tutto quello che poteva essere velenoso quindi per cui la natura che è saggia ha messo una specie di chip all'interno dei bambini per cui scatta un allarme che dice oh mio dio quella cosa è rossa quella cosa verde quella cosa mi ricorda il mondo dei vegetali io la scarto i bambini non tendono invece a mettersi in bocca tutto quello che trovano in maniera fino all'anno di vita poi scatta questo allarme proprio quando iniziano ad essere autonomi a muoversi nel mondo finché sono accanto ai genitori non succede nulla quando raggiungono l'autonomia e ti sfuggono allora lì nasce quell'allarme contemporaneamente la nascita dell'autonomia del bambino ok e quindi la soluzione qual è visto che ci sono tutti questi campanellini d'allarme nella testa di un bambino a livello anche mi sembra di aver capito più o meno inconscio come si fa a convincere a mangiare visto che è qualcosa che arriva da una volta ti faccio fare un viaggio nel tempo tu cosa avresti fatto se fossimo stati in una grande famiglia in una cascina di cent'anni fa dove un bambino di dieci figli scartava un po' di verdura per caso qualcuno si sarebbe preoccupato qualcuno avrebbe detto non la cucino più perché il bambino più piccolo di due anni non la mangia no l'avrebbe mangiata qualcun altro esatto tutti avrebbero continuato a mangiare sereni nessuno avrebbe dato importanza alla cosa e soprattutto il bambino avrebbe avuto accanto tantissime persone che mangiavano quella cosa in serenità in un momento di convivialità oggi cosa succede invece se un bambino scarta una verdura e di solito è figlio unico sì o non la si cucina più perché sai che non gli va bene o gli si trova subito un'alternativa allora non vuoi mangiare quello allora ti faccio quest'altro eccetera eccetera cioè questo sicuramente e soprattutto ci sono dei commenti ovvero oddio non ha mangiato oddio quello non ci piace ah la preoccupazione tra amiche mio figlio quella cosa non la mangia sì il papà che racconta la maestra ma all'asilo ha mangiato quella cosa perché a casa non la mangia sì è pieno di messaggi di gente che dice all'asilo mangiano a casa no o il contrario dove insistere che magari mangia no non devi insistere insomma c'è un casino intorno a questo cosa bisogna fare non dire niente lasciare tranquilli e continuare a presentare quell'alimento più volte sì in un contesto positivo di convivialità come quello che avremmo avuto cent'anni fa e se non viene mangiato la strategia questo c'è questo si mangia se non vuoi mangiare questo pazienza è giusta o bisogna creare alternativi no è un po' dura quello che hanno fatto con noi negli anni 80 e 90 insomma di spingerci a mangiare per forza ha creato traumi sì per cui magari alcune cose non le vogliamo più perché abbiamo dei cattivi ricordi certo diamo un'alternativa al bambino con un cibo amico che accetta però accanto gli mettiamo il cibo nemico anche quello c'è un messaggio che ho letto adesso che mi sembrava pertinentissimo mia figlia 8 anni scarta qualunque tipo di grassetto dai salumi e dalla carne continuo a tollerare o intervengo questo credo che sia il grande classico credo che tutti i bambini no da piccoli l'abbiamo fatto tutti quasi tutti sì 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 e cosa fa interviene o lascia perdere lasciare perdere ai nostri tempi tu di che anno sei? 79 79 io sono 80 ai nostri tempi si diceva sempre pensa ai bambini che non hanno da mangiare ecco io non lo direi magari ecco che è una roba che io ho sempre trovato cioè non è che verrebbero comunque a mangiare questo io nella mia testa di bambino piccolo mi dicevo quindi non capivo tanto il ragionamento comunque sia tra poco ho delle domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori tantissime su allattamento quella e come si dice svezzamento vegetariano quella addirittura qualcuno vegano sì ok quindi dopo parliamo di questo prima però c'è il telefono Paola che ci ha sentito prima parlare del o mangi sta minestra o salti sta finestra e voleva farti delle domande Paola buongiorno ciao ciao come stai bene grazie mille bene bene allora dicevamo prima di queste alternative che si danno ai figli che non vogliono mangiare un alimento meglio dargli un'alternativa Carla dice dice di sì tu che domanda hai eh io volevo appunto chiedere siccome mio figlio è limitatissimo nell'alimentazione come mi devo comportare se devo sforzarlo ad assaggiare tutto ad approcciarmi in un modo diverso oppure seguire la sua linea e quando crescerà cambierà idea non lo so guarda prima di farti rispondere Carla mi accodo anch'io alla domanda di Paola così poi dai una risposta totale per esempio a casa nostra la regola è che tutto quello che c'è da mangiare si assaggia questo l'assaggio senza dubbio se poi non ti piace non lo mangi eccetera eccetera conosco figli di altri genitori che invece essendo sempre molto tolleranti nell'offrire un'alternativa i figli hanno 15 anni e mangiano pizza e polpette e basta perché comunque sia qualunque siano le due alternative c'è sempre una pizza e le polpette vanno sempre sulla cosa che sono più abituati a mangiare gli piace di più fa parte della loro comfort zone quindi ecco mi accodo a Paola e poi Carla ci dice la sua è una domanda più complessa di quella che è sempre ma ti do una risposta semplice Paola in realtà associa un cibo che possiamo chiamare alternativa ma non darlo come alternativa cioè non darlo al posto di per esempio se tuo figlio mangia la pasta in bianco tu puoi anche dare la pasta in bianco però accanto alla pasta in bianco mi devi mettere uno di quegli alimenti che tuo figlio non mangerebbe in modo che li veda insieme perché il cibo entra dagli occhi prima ancora che nella bocca se fai vedere spesso e volentieri e la letteratura scientifica ci dice anche 20 volte quindi può essere tutta una stagione per esempio i broccoli mettili accanto e alla fine tuo figlio finirà per interagire con i broccoli magari li tocca magari li butta fuori dal piatto magari li annusa alla fine se li porta alla bocca quindi la risposta è un po' una via di mezzo la cosa che invece ti suggerisco di non fare mai è quella di dire mio figlio non mangia i broccoli beh allora gli do la pasta in bianco questo non deve essere fatto e non dovrebbe essere fatto neanche nel menu delle scuole mi raccomando cosa vuol dire che non dovrebbero esserci purtroppo io eviterei la pasta in bianco nei menu scolastici perché già la vedono sempre a scuola sai che ne parlavo con una mamma c'è stata una festicciola questo il weekend scorso ne stavamo parlando dicendo essendoci sempre la pasta in bianco come alternativa a tutto il resto il figlio di questa di questa ragazza appunto dice alla fine finisce che mangia sempre la pasta in bianco esatto ci sono due problemi uno quanto si paga di mensa a scuola per mangiare la pasta in bianco e poi sì che c'è poca varietà la scuola dovrebbe essere un momento di convivialità da recuperare quando a casa non c'è quando magari i genitori sono di fretta lavorano e lasciano i figli con un nonno piuttosto che con una tata quello è il momento in cui recuperare quindi ha un grande valore educativo che non può sostituire i genitori però ce l'ha guarda quello che diceva quello che diceva Carlo mi ha fatto venire in mente un altro aspetto che poi è molto pratico per far mangiare bene i bambini credo che la cosa principale sia che mangino bene i genitori cioè perché tu per far trovare l'alternativa di fianco alla cosa che tuo figlio è più abituato a mangiare vuol dire che la devi cucinare non è che siamo dei ristoranti che facciamo un menù ad hoc per tutti vuol dire che la devi mangiare tu cioè vuol dire che quel giorno lì tu devi mangiare i broccoli e gliele metti un po' a lui quindi tu per prima devi essere quella che mangia bene ma infatti io lavoro più sui genitori che sui bambini i bambini sono facili eh si torna si torna sempre lì è che i genitori spesso sono loro stessi selettivi spesso loro stessi non mangiano in modo sano per fortuna li prendo tutti in un colpo con lo svezzamento perché li metto seduti si fa una chiacchierata all'educazione alimentare e lì magari mi prendo tre piccioni con una favo anche quattro sono altri figli anche cinque ci vuole del tempo bisogna investirci un po' di tempo tu come mangi Paola mangi bene o sei sempre un po' di fretta perché lavori c'hai sbattimenti no 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 a me piace molto cucinare e purtroppo a me piace tutto dovrei essere perennemente a dieta e invece mangio tutto quindi diciamo che in casa mangiamo bene si sai che anche a me piace molto cucinare e quello invece a volte è un problema perché a me piace cucinare e mi piace mettere un sacco di gusti dentro le cose che poi mi rendo conto che per la bocca di un bambino a volte sono peperoncini no va benissimo peperoncino così vado ma basta io dicevo madonna forse io esagero col peperoncino e poi non mangiano invece no ma figurati il mio primo figlio è metà peruviano si e ha mangiato fin da piccolo cose piccanti infatti ama la cucina di tutto il mondo di tutto il mondo eh sì l'altro tema è quando si viaggia no perché poi anche lo stesso piatto in giro per il mondo si chiama uguale ma ha un gusto completamente diverso e poi ci rimangono male fateli assaggiare tutto siamo in un mondo ormai globale e questi bambini viaggeranno da grandi hanno bisogno di conoscere anche tutti gli allergeni eh sì beh certo evita che da grandi siano degli allergici lo riduce la probabilità provando un po' tutto ci scrive una ragazza credo dicendo mio figlio ha mangiato praticamente tutto fino ai tre anni poi ha iniziato a rifiutare qualunque cibo ad oggi infatti come state raccontando voi mangia tre cose cotoletta pasta in bianco e ovviamente mai né frutta né verdura che grande classico mi stai raccontando l'età picco in cui si presenta la selettività ai cibi è proprio tre anni di vita è lì che dobbiamo lavorare un po' e tenere botta fino ai cinque ripresentando tutti gli alimenti attenzione però a fare sempre pasta in bianco e cotoletta perché se limiti il menu stai limitando la possibilità di tuo figlio di sperimentare cibi nuovi e si può cronicizzare non vogliamo che si cronicizzino assolutamente no ma che domande assolutamente no Paola ti mandiamo un abbraccio grazie mille buona giornata ciao 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 posto che immagino la discriminante sia sempre la quantità quante volte quante se ne mangia ovviamente quando si parla di cibo la cosa che fa peggio ai bambini da mangiare qual è? ti posso dire che in realtà dobbiamo dare dei divieti assoluti non dovrebbero proprio esistere nell'infanzia i bambini devono vivere serenamente l'assaggio anche di quell'alimento che non è particolarmente sano il problema è quando diventa la norma quindi il genitore va a fare la spesa e torna a casa ed ha il carrello pieno di merendine e junk food quello non dovrebbe essere usciamo andiamo ad un compleanno andiamo in piazza e ci sono soltanto patatine si può tranquillamente mangiare solo quello c'è una ragazza che dice mia figlia è tre anni adora la pizza cosa consiglia per la mozzarella? va tolta? ma no ma figurati è vero che la pizza tecnicamente è il peggior cibo che si possa mangiare cioè contiene all'interno tutto quello che cioè formaggio formaggio scaldato a qualunque gradazione carboidrati lieviti cose è vero o no? è un falso mito? ma possiamo sfatare questo mito è chiaro che se vai in una pizzeria che utilizza delle farine di pessima qualità delle mozzarella di pessima qualità stai mangiando un cibo di pessima qualità di pessima qualità però non dipende dalla ricetta dipende dalla qualità la pizza è un cibo se posso dirti completo si affianca soltanto un po' di salata perché è chiaro che il pomodoro che c'è il sugo di pomodoro non basta a coprire quelle che sono le esigenze di verdura di verdura frutta certo il pomodoro è un frutto vero? si il pomodoro è un frutto si metterci sempre l'insalata io una cosa che ho iniziato a fare recentemente vedi che non si parla solo di bambini quando mangio la pasta cosa che si corrisponde più o meno alla colonna portante della mia alimentazione sempre insalata giusto? assolutamente così hai fatto un pasto completo completo metterci sempre un po' di insalata allora arriviamo ai due temi quelli un po' scottanti che sono temi iperattuali che stanno facendo discutere principalmente le donne ovviamente perché si parla di allattamento però insomma tutti sui social principalmente ma insomma c'è tanto dibattito allattamento al seno c'è una ragazza che dice io vorrei allattare al seno ma proprio non riesco e mi sento molto in colpa e il senso di colpa immagino immagino sia sbagliato però differenze fra allattamento al seno e allattamento con latte artificiale? intanto mi sento di dire a questa futura mamma che qualunque cosa farai tu ti sentirai in colpa perché ci saranno sempre fazioni che ti diranno era meglio fare il contrario sì certo se non puoi allattare stai tranquilla puoi essere comunque una buona madre non c'entra nulla ma da un punto di vista della crescita la differenza fra il latte materno e quello artificiale? dal punto di vista scientifico il latte materno non ha uguali quindi il latte formulato è sicuramente ottimo ma il latte materno ha dei fattori nutrizionali in più nonché da una protezione immunitaria che è imbattibile e soprattutto non si può riprodurre in laboratorio quindi noi incoraggiamo tutte le donne che possono allattare a farlo e soprattutto la cosa che dovremmo fare qui me a colpa della mia categoria professionale dovremmo sostenerli più perché non è facile allattare in questa società e soprattutto concedemi di dire non ci sono politiche a sostegno delle donne che allattano perché il tempo delle maternità è veramente breve ma anche quello della paternità è ridicolo nel nostro paese quasi inesistente si mette molta fretta anche alle madri una donna che allatta deve essere sostenuta perché non si parla solo di diade mamma bambino ma in realtà si parla proprio di famiglia quindi di nucleo familiare che deve essere sostenuto l'altro tema è lo svezzamento vegetariano quindi eliminando lui dice eliminando solo la carne non il pesce che quindi di base non è vegetariano in realtà dal punto di vista scientifico svezzamento vegano vegetariano o flexitariano come quello che è appena nominato come si chiama? flexitariano flexitariano vuol dire quando intendo la carne intendo solo un prodotto animale ma non tutti oppure mangiamolo sporadicamente sono molto simili dal punto di vista nutrizionale se sono ben bilanciati e se viene integrata la famosa vitamina B12 non presentano differenze rispetto agli altri se non dal punto di vista sociale ovvero mi devo adattare ad una società che è onnivora e devo quindi trovare soluzioni pratiche per poter uscire a mangiare mensa e quindi andare incontro a tutte le differenze che ci possono essere però è una scelta di cui ci si fa carico quello vegano? fattibile anche questo uguale ok perfetto allora credo che abbiamo risposto a tutto Mauri anche perché ti vedo che ti sbracci quindi siamo arrivati alla fine ultimo disco ci sta? va bene allora ringraziamo la pediatra Carla giochiamo con i cibi amici come combattere l'avversione dei bambini per i cibi nemici a tavola è un libro che trovate nelle librerie grazie mille per essere passata a trovarci grazie ciao genitori ciao girl girl